video oggi è stata una bella giornata di sole essenziale nel senso che si piove diluvia e sono temporali in corso ma siccome ero quasi 200 chilometri da qui verso il mare ora sai la situazione cambia guarda senti adesso e se prende a dire che sembrano vecchi stili sai vecchio stile radio per provare sai così l'effetto no e siccome oggi sai mare tempesta altitudine ma no altitudine no erano 50 60 di altitudine o 100 quasi al mare ho usato un po di come ti spiego il presente ecco gli scogli ok gli scogli o qualche gabbiano l'ho visto perché prima di tutto ho sentito da lontano arrivare il gabbiano non lo so chi era un forscolo bianco forscolo grigio poi ho sentito sempre che lo suono proprio una cosa così sai non so evitarlo bene e poi ci sono molte modalità di vivere la giornata quando piove io l'ho fatto provateci voi andate al mare non ancora arrivare proprio lì è preciso il mare basta essere beh non so a chilometro due dal mare dal vero della vera spiaggia grazie a tutti